Allora hanno scritto male Sì Tanto adesso abbiamo ancora i 4 minuti Fantastico, comunque Sony Classical è... Sony Classical è clamoroso Non mi è mai capitato di fare un'intervista da artisti della Sony Classical No, ma è una tendenza internazionale In realtà molte major, anche all'estero, dirottano sui partiti classici Tante cose che non sono più problemi Ma che non sono neanche classiche No, no, no Non possiamo rimarmi Tanto la metto su Facebook Se vuoi la posso imparare Se vuoi la posso imparare Bello lì Così? Senti in cuffia Eh, me la ritaglio un po' Sì, è perfetto Sì Sì Tutto il filo Sì E' fantastico Adoro quando vi date i CV Sono contentissimo quando vi date i CV ormai tutto digitale Grazie